Si preparano a vivere un momento di spiritualità ai giovani della comunità di AC Sant'Antonio. Nella serata di giovedì 14 nella chiesa di Sant'Antonio Abate si svolgerà la festa del perdono, atto propedeutico alla celebrazione della Santa Pasqua promosso dalla pastorale giovanile della diocesi di Acileale. Un momento di aggregazione giovanile ma soprattutto un momento in cui ci vogliamo preparare insieme come diocesi al giorno di Pasqua, dove vogliamo sperimentare la bellezza del sacramento, della riconciliazione, della confessione. Tema della serata è se fosse amore una semplice domanda dalla quale può partire una riflessione alla luce dei tragici fatti di cronaca. L'amore salva e non condanna, diventa luce nelle tenebre. A dare spunto allo sviluppo del tema un passo dal suo amore che trasfigure e che mute i volti porta a guardare con occhi nuovi gli altri come se fossero visi mai visti.